Allora Cuppone, il gol è arrivato però non è servito nel senso che il Pescara non è riuscito a portare via punti da Alessandria, primi 20 minuti bene e poi malissimo. Sì, siamo dispiaciuti per com'è andata la partita, siamo partiti bene, siamo riusciti a portare in vantaggio la gara e secondo me abbiamo preso gol in un momento in cui eravamo completamente tranquilli che stavamo gestendo la partita, se non sbaglio era 5-6 minuti dalla fine e poi non siamo riusciti a partire bene il secondo tempo, eravamo riusciti pure a recuperarla perché quando ho segnato io eravamo riusciti a pareggiarla però poi non è andata bene. Nel primo tempo il Pescara che si deve vedere sempre con le aggressioni e con l'attacco, la profondità, poi una bellissima palla tua per Mero la poteva chiudere la partita, forse l'unico rammarico di questa serata è non aver chiuso sul 2-0. Sì, come ti ho detto prima abbiamo preso il gol e nel momento in cui stavamo gestendo bene la partita stavamo attaccando avendo occasioni e se riuscivamo a chiudere la partita forse il secondo tempo sarebbe stato diverso. Sette golle tu e sette golle Tuniov in casa Biancazzurra, ti regala un piccolo sorriso questo numero se è il capocannoniere della squadra o oggi c'è poco da sorridere? Oggi sinceramente c'è poco da sorridere, c'è rammarico perché volevamo partire bene questo inizio di stagione nel senso del ritorno, speriamo di riprenderci con una partita col Perugia che è una bella partita e dobbiamo cambiare lotta. Massimo Cuppone l'auricolare ti ascolta. Ecco come ti spieghi Gigi, il Pescara è sparito dopo i primi 30 minuti che avevano illuso perché avete creato tre occasioni nitide altrettante potenziali, eravate andati in vantaggio. Zeban ha detto al microfono di Enrico Giancardi poco fa la squadra non è tranquilla di testa eppure se parliamo dei fattori ambientali ad Alessandria di fatto giocavate in casa perché mi pare che ci fossero 90 tifosi del Pescara e quelli di casa non c'erano proprio immagino. Sì, l'effetto ambientale non c'entra niente nel senso ci siamo abbattuti dopo il gol del pareggio e lo svantaggio e poi non siamo riusciti più a riprenderla. Dobbiamo cambiare rotta, dobbiamo essere bravi noi più grandi a riprenderci in mano la squadra, a far portare i più giovani dalla nostra parte e a seguire il mister. Tutto questo viene durante il lavoro, dobbiamo seguire quello che dice il mister e cercare di riprenderci il prima possibile perché è quello che vogliamo.